TG Regione, con la partecipazione di Gran Biscotto Prosciutto Cotto Rovagnati, presenta il Meteo Regionale. TG Regione, con la partecipazione di Acqua Minerale Sant'Anna, presenta il Meteo Regionale. TG Regione, con la partecipazione di Gran Biscotto Prosciutto Cotto Rovagnati, presenta il Meteo Regionale. TG Regione, con la partecipazione di Dolomiti Super Skids di Pasqua e Dolomiti, presenta il Meteo Regionale. Il Meteo Regionale è presentato da Monge, patè e crocchette per cani e gatti.